Allora, vediamo i temi da costruire. Panda, bottiglia... Non per bottiglia, ma vincerà sicuro terra. Ciao, lollo, mi dedichi un this is crazy, bro. This is crazy, my man. This is crazy. Allora, direi di fare... Visto che c'è il tema della terra, direi di fare una cosa carina. Anzi, facciamola azzurra. Light blue concrete e green. No, lime. Non ci riuscirò mai. Voglio cercare di fare, tipo, la forma della terra, ma non sono mai stato bravo a far sta roba. No, in realtà ha senso, però è un po' troppo piccola, forse. Sì, l'idea era esattamente questa. Ho un'idea. Piccola, però, piace di più. Le cose più piccoline e carine piacciono di più. E poi, nei restanti un minuto e mezzo, facciamo le decorazioni esterne. Facciamo lo spazio. Però non ha senso questo. Per lo spazio facciamo black concrete. Raga, spacca l'idea dello spazio. Facciamo anche gli altri pianeti. Il problema è di che colore sono gli altri pianeti. Andiamo a caso. No, devo essere almeno di tre la parte sopra, se no non ha senso. Vincerò miracolosamente, palesemente. Raga, io non so come sono fatti i pianeti, onestamente. Fa il sole il più importante. Questo possiamo farlo. Soprattutto, oddio, me li lascia così? Non ci credo. Andiamo, spammiamone un botto. Ah, spero, ok, alcuni me li lascia. Queste fanno bene da stelle, tipo. Scherzavo, dovrei metterne troppe. Facciamole a terra, tipo. Molto nel chill, raga. Cosa mi rappresenta qui? Questa terra è car... Perché c'è la mia faccia? Bro, what the fuck? Perché? Allora, è bello, però perché? Fra, non ha senso sta roba. Perché? Ecco la neve, poi la neve è un botto fastidioso. Ah, questo era... Spaccava questo, però peccato perché non sei riuscito a farlo. Oh, raga, per ora il mio sarebbe il migliore. Bro, è un terrapiottista. Ah, anche lui, cosa finito. Lollo T? Lollo T amo parte 2. Che grande. Epic. Mi levate? Lollo salutami, please. Ciao. No, this is crazy, bro. Però è ok, dai. Raga, questa lobby ha avuto un botto fortuna. Pallese che vince il tipo... Oh, dai, dai, raga. Lollo Lacuster, doppio pianeta, stelle sul pavimento. Come on, this has to be it, bro. Ah, Gabri, peccato. Peccato, bello. Easy. Easy win, ragazzi. Easy win. Quella cosa più easy del mondo. Macchina? Oddio. Castello. Facciamola, il tema, il castello. O macchina? No, anche macchina ci sta, non lo so. Stella? Vabbè, ho avuto il castello. Ok, il castello come lo facciamo? Può usare questo tipo di legna? No. Ecco, infatti. Io sperco sempre troppo tempo per sta parte qua, che è tipo inutile, vabbè. Castello. Concrete. Le mura come le posso fare? Gli stone, ci sono gli stone bricks. È una roba molto, molto easy voglio fare. Però qui voglio dare anche un pattern. Ok. Tipo una sorta di castello diroccato. Poi mettiamo questo per fare il raft. Più che altro c'è sempre la roba dei 5 minuti, raga. Non hai tempo per far ste robe. Facciamolo con il mossi. Ok. Diamo gli un po' di texturing. Secondo me si potrebbe anche mettere qualche mossi qua in giro a caso. Per dare appunto un po' di texturing. Raga, non è bello ma... Fa il suo lavoro, dai. Bro, hai spumato troppe teste. Avrei lavorato di più sul castello. Questo ha detto, bro, facciamo una roba gigantesca, ma non è riuscito nel suo intento. Questo è stato originale, dà. Ha fatto un castello di sabbia, l'esecuzione... Dai, ok. Ok, solo per il... Grim Reaper. Bro. Dai, il mio è carino. Non è nulla di speciale. È carino e basta, raga. Si capisce che è un castellino sul mare, tipo abbandonato. Con un raft. Questo... Sì, dai, ok. Mi piace che ho usato block texturing. Per i minuti che abbiamo a disposizione, questo... Ah, è poop, dai. Oh, bello questo. Cavolo, questo è geniale. È così semplice fare questa cosa. Questa la terrò a mente. Bello questo con il ghiaccio. Carino. It's pretty cool, man. Legendary addirittura. Sì, no, vince questo. Questo è bellissimo. Bello anche questo qua di roccato, così. Questi sono belli, belli. Qua c'è tanto da prendere spunto, ragazzi. Allora, distruttore, ti do... Ok. Anche se è storto. Pretty good, man. Pretty good. Mi è arrivato il secondo. That's crazy, man. No, dai, Treehouse, basta. Avinci la Treehouse. Raga, qua si fa la giocata. Come si fa a cambiare... Non so come funzionano queste cose. Io non dovrei sperimentarle, forse, mentre sono in live, queste cose. Ma va bene lo stesso. Qualcuno sa se si possono usare i campfire spenti. Prima che lo testi io. No, non puoi. Ok. Perfetto. In maniera negativa, ovviamente. Vabbè, facciamo così. Mi impegno troppo nei dettagli, non dovrei. Eh, però come faccio a farlo? Facciamolo con le slab. Sì, dai, con le slab forse è anche più easy come cosa. Due minuti rimanenti. Oh, shit, bro. Perdo troppo tempo. Eh, perché si glitcha pure. La cosa fondamentale ora, che è la casa. Freestyle, freestyle. Facciamola con le fence. Andranno bene. Dai, carina, raga. Questa, bro, carina. Carina. Cowboy. Carina. Potevi fare un po' più di texturing, brother. L'ho l'alacustre. Anche la mia, io gli darei un ok. Sono belle le decorazioni. Bro. Ah, no, ok, c'è la casa sull'albero. Ok, anche lui. Ho fatto crescere un megalbero, l'ho un po' disboscato. Bella la cosa. Allora, mi piacciono le radici, ma il resto è proprio eseguito un po' malino, eh. Questo... Dai, ok. Gli occorre. Questa non mi... Ok, perché si capisce che sono case sull'albero, però... Uh. This is clean, bro. Cosa ha scritto questo? Lollo. Lollo. Mi chiamo Federico. Ciao, Federico. Carino, ma non c'è la casa. Oddio, ma sono con spezzacuori? Ciao, spezzacuori. Allora le dobbiamo dare un good, almeno. Vittoria easy nel chill. Crocodile. Pineapple. Chest. Piramide. Easy che vince la piramide. Siamo pronti a speedrunnare la piramide, ragazzi. Non ha vinto la piramide? Scherzone, allora. Siamo pronti a speedrunnare un coccodrillo? L'acqua le la mettiamo dopo. Ma il coccodrillo è marrone o verde? Qual è dei due? Quello verde? Più lungo. Eh, bro, poi gli do la forma, non ti preoccupare. Più che altro non c'è tanto spazio, quello è il problema. Ok, abbiamo più o meno la base. Sì, dai. Sì, sembra già un mini coccodrillo, insomma. No, diamo lì uno spessore e poi gli facciamo la super cosa tipo coda. Raga, un'idea assurda. L'idea assurda. Fare il cavolo di cosa kawaii. I banner per gli occhi. Eh, non so usarli i banner. Perché gli ho fatto? Volevo fargli il cappellino ma non ho realizzato. Uh, bella con questa cosa qua. Potevi fargli gli occhi, bro. Bello, bello. Mi piace. Bella con la bocca così. È quello che volevo fare io. Good. Allora, questo ha fatto il bioma. Ah, è qua. Bello anche con il bioma. Raga, la competizione è strong oggi, eh. Scherzavo. Ah, cavolo, questo è geniale però. Però gli do un ok. Perché non mi fa impazzire. Anzi no, damo lì good, dai. Sei impegnato. Lollo, verresti vedere la faro di canne da zucchero nel server? CTG4. Basta, vi prego. Questo è un ragno, bro. Perché gliel'ha fatto con una sigaretta e la cosa? Uh, questo è bene, bro. Peccato che l'abbia fatto, tipo... Allora, gli avrei dato Epic, ma ha sbagliato le proporzioni. Questo ha fatto solo la bocca. Però è bella. Gli diamo un ok, dai. Pulito, pulito, pulito. Ci sta. Meritata, win.